Il sottoscritto Jakob von Gunten, figlio di ben nati genitori, nato il giorno tale, cresciuto nel tale e tal luogo, è entrato come allievo nell'istituto Beniamenta, per impadronirsi delle poche nozioni necessarie ad essere assunto in un qualsiasi servizio. Il medesimo non nutre alcuna speranza nei confronti della vita. Si augura di essere trattato con severità, così da poter apprendere che cosa significa dover fare appello a tutte le proprie forze. Jakob von Gunten non fa grandi promesse, ma si propone di condursi in maniera lodevole. Eretta, i von Gunten sono un'antica schiatta. Nei tempi andati essi furono guerrieri, ma accalmatasi la smania bellicosa, oggi sono anticonsiglieri e commercianti. E l'ultimo rampollo della casata, oggetto del presente rapporto, ha deciso di ripudiare apertamente ogni tradizione di fierezza. E gli vuole che sia la vita ad educarlo, non già dei principi ereditari o comunque aristocratici. Senza dubbio è orgoglioso, poiché gli è impossibile rinnegare la sua innata natura, ma ha dell'orgoglio un concetto interamente nuovo, rispondente in certo senso all'epoca in cui vive. Spera di essere moderno e, almeno in parte, adatto a rendere servizio e di non apparire totalmente sciocco e disutile, ma è una bugia. Non lo spera soltanto, lo afferma e lo sa. Il suo amore è caparbio, in lui si agitano ancora un po' gli spiriti indomiti dei suoi antenati. Ma, egli chiede di essere rimproverato se da prova di caparbietà, e se ciò non servisse, di essere punito, poiché crede che allora servirà. Comunque, si dovrà ben sapere come trattarlo. Il sottoscritto ritiene di potersi tirar di un paccio in ogni occasione, e è indifferente che cosa gli sarà ordinato di fare. E' fermamente convinto che ogni lavoro eseguito con diligenza sarà per lui un maggior onore che non il restarsene seduto, ozioso e pavido, accanto alla stufa di casa. Un von Gunten non sta seduto, accanto alla stufa. Se gli avide, qui rispettosamente sottoscritto, hanno cinto la spada cavalleresca, Il loro discendente non fa che attenersi alla tradizione, allorché arditissimamente brama di rendersi utile in qualche modo. La sua modestia non ha limiti, una volta che si stimoli il suo valore, e il suo zelo nel servire ugualia la sua ambizione, che gli comanda di disprezzare l'ingombrante e pernicioso senso dell'onore. Il ripetuto sottoscritto ha picchiato a tutto spiano il rispettabile dottor Merz, suo insegnante privato di storie, commettendo una scelleratezza di cui si duole. Oggi è suo desiderio di poter infrangere l'orgoglio e l'albagia, forse ancora non del tutto spenti in lui, contro l'incrollabile scoglio di un duro lavoro. È parco di parole e non riferirà mai le confidenze che gli vengono fatte. Non crede né al regno dei cieli né all'inferno. La soddisfazione di chi lo assumerà sarà per lui il paradiso, il suo triste contrario, l'inferno distruttore. Ma egli è certo che si sarà contenti di lui e delle sue prestazioni. Tale ferma certezza gli dà il coraggio di essere quello che è Jakob von Gunten.